Santi Fabiano e Sebastiano. Fabiano della comunità cristiana di Roma, alla morte di Antero, divenne il ventunesimo papa della sede apostolica. Da buon amministratore riorganizzò la comunità composta da 46 presbiteri, 104 chierici e circa 1500 tra vedove e altri cristiani bisognosi. Suddivise la città di Roma in sette circoscrizioni ecclesiastiche, affidando il governo di ciascuna ad un diacono coadiuvato da un suddiacono. Fabiano a Roma assunse un prestigio tale da destare preoccupazione nell'imperatore Decio, deciso a perseguitare prima di tutto i vescovi. Arrestato e martirizzato, il suo corpo fu sepolto nella cripta dei papi, nelle catacombe di San Callisto. È patrono dei vasai e degli idraulici. La sua memoria è abbinata a quella di Sebastiano, il cui martirio avvenne nello stesso giorno ma 50 anni più tardi.